Musica Buonasera cari amici, bentrovati di nuovo insieme con Confagricoltura News vado subito a salutare e presentare l'ospite che abbiamo in studio Nicola Artoni di Confagricoltura Mantua Ciao Nicola, bentrovato Grazie Allora, dobbiamo dire non un argomento nuovo, questa settimana bensì un aggiornamento cosa che facciamo molto spesso all'interno della nostra trasmissione l'argomento purtroppo mi viene da dire è quello della peste suina africana, della PSA che è una criticità che non diminuisce e anzi probabilmente sta diventando sempre più preponderante anche se, dobbiamo dire, Nicola, per il momento non sta toccando e non ha toccato il territorio mantovano ma sappiamo insomma quanto la guardia debba rimanere alta Assolutamente, dici bene, per il momento Mantua, lo diciamo il più piano possibile Piano, molto piano Non è, non ha fatto appunto, non ha rilevato casi di positività alla peste suina africana però la situazione, come dicevi nell'introduzione, è sicuramente delicata perché la malattia sta avanzando, sta avanzando dalla zona di Pavia e Milano perché ci sono stati dei nuovi casi anche nel parco del Ticino e sta avanzando anche da sud perché anche nella provincia di Parma soprattutto nel comune di Borgo Valditaro sono state rilevate delle carcasse di cinghiali infette dalla PSA quindi tutto questo fa capire la gravità della situazione perché la provincia di Mantua è diciamo assediata da casi di positività alla PSA e questo sicuramente come Confagricoltura Mantua rileviamo una situazione di grave preoccupazione per questa situazione soprattutto perché la nostra, lo sappiamo assieme alle province di Brescia e in parte anche quella di Cremona è la provincia nella quale la suinicoltura a livello regionale ma anche a livello nazionale raggiunge i massimi livelli sia appunto come numeri ma soprattutto anche come valore economico tant'è che il nostro ufficio tecnico ha fatto un conto, questo a livello naturalmente nazionale ogni mese che passa da quando la PSA è entrata in Italia noi perdiamo 20 milioni di euro a livello nazionale come esportazioni, se il virus dovesse raggiungere le zone più vocate alla produzione suinicola come la provincia di Mantua il conto triplicherebbe, si passerebbe a 60 milioni di perdite al mese questo sicuramente è una cosa che non possiamo permetterci per mantenere appunto, per garantire la sopravvivenza del settore noi quindi in chiusura lanciamo un nuovo appello a tutti gli allevatori perché affinché rafforzino le misure di biosicurezza quelle normali ma anche quelle rafforzate le utilizzino ai massimi livelli e ringraziamo la politica e l'amministrazione anche regionale con l'assessore Beduschi perché sicuramente gli ultimi contributi che ci sono stati sono stati importanti che contribuiranno a migliorare la sicurezza nelle aziende Assolutamente, grazie, grazie a Nicola Artoni per aver fatto il punto della situazione grazie a voi che ci avete seguito da casa e appuntamento tra sette giorni